Quella che abbiamo visto con questo video è una mappa di profondità semplice da realizzare con un effetto poco realistico. Se vogliamo dare una mappa di profondità più realistica ovvero lasciare in risalto l'oggetto in primo piano e man mano gli oggetti che si trovano più lontani, ovvero la colonna, la parete e più in fondo il cielo e il terrazzo. Per fare questo dobbiamo crearci una mappa di profondità più complessa. Il soggetto in primo piano lo riempiamo di nero, poi ci selezioniamo la colonna e lo riempiamo con un nero più chiaro e per fare questo mi sono creato una tavolozza idonea allo scopo, ovvero con una scala di grigi, dal bianco al nero. In pratica dove avremo l'oggetto nero non si verrà a creare la sfocatura, mentre su quell'oggetto grigio scuro avremo una mappa di profondità, una sfocatura molto leggera. Ci creiamo un altro grigio per il terreno, il bianco per il cielo, un grigio chiaro per il terrazzo e per la parete un grigio meno chiaro. Otterremo una mappa di profondità del genere, la fondiamo in un unico livello, ovvero questo qua e su questo e utilizzeremo questo per ottenere l'effetto che desideriamo. Come sempre creiamo un nuovo livello, adesso eliminiamo dove ho già applicato l'effetto, filtri, rimostra ed ecco, come potete vedere, l'oggetto in primo piano non è sfocato, la colonna meno sfocata, la parete ancora meno, invece il cielo è molto sfocato, ovvero dove abbiamo l'effetto bianco avremo la maggior risalto della sfocatura e con la scala di grigi man mano verrà a diminuire fino al nero che sarà nulla. Applichiamo il filtro e otterremo l'effetto finale che è questo, dove l'oggetto in primo piano non è per niente sfocato, la colonna sfocata leggermente, la parete sempre con una sfocatura minore e dove è il bianco avremo il massimo della sfocatura da realizzare. Abbiamo una mappa di profondità, un campo di profondità più realistico con gli oggetti in lontananza che man mano si vanno a sfocare. Con questo è tutto, un saluto da Don Go. Ciao.